Tempo di cambiare, episodio 23, quello dell'intervista a Marco Fardin. Ehi ciao, sono Italo Cillo, questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it è l'indirizzo base dove sono archiviati tutti gli episodi passati, siamo arrivati al ventitresimo. Tutti questi episodi del nostro podcast ha a che fare con i tempi di intenso cambiamento che stiamo vivendo e questo è il tempo in cui la verità viene a galla, sempre più e in tutti i campi. Ecco perché in tempo di cambiare diamo la precedenza e ci occupiamo con gli argomenti di cui non si parla nei telegiornali, nei quotidiani, nella storia ufficiale e così via. Ogni puntata è completa in sé stessa, non esiste necessariamente un filologico né l'obbligo di ascoltarle in un certo ordine. Ogni episodio ha la funzione di aggiungere un tassello, creare spunti di riflessione, approfondire un pezzetto del mosaico. Questa settimana ormai fervono i preparativi per il secondo raduno di Tempo di Cambiare, si terrà a Roma fra pochissimi giorni ormai, da venerdì 21 a domenica 23 dicembre, sarà la nostra seconda occasione di incontro, il secondo raduno della comunità che si raccoglie intorno al podcast di Tempo di Cambiare e faremo tante cose, sono in programma gruppi di studio, gruppi di lavoro, gruppi di approfondimento, relazione di approfondimento su tutte le tematiche trattate nel podcast, faremo meditazioni mattutine, celebrazioni serali e ci saranno ospiti speciali. Venerdì 21, il primo giorno del nostro raduno, nel pomeriggio ci sarà un intervento di Varo Venturi, Varo Venturi sarà con noi, ci parlerà in anteprima degli studi del professor Fomenco e quello di cui vi parlavo nello scorso episodio del podcast preannunciando che ne avremo parlato molto presto, gli studi del professor Fomenco e del suo team di studiosi sono quelli secondo cui mille anni di storia, grossomoto quelli che vanno dall'anno zero all'anno mille non sarebbero mai esistiti ed ecco che in anteprima Varo Venturi ci parlerà di questo al raduno di Roma in anteprima rispetto a quella che era le mie intenzioni, parlare in un prossimissimo episodio del podcast. Sabato 22 nel pomeriggio sarà con noi Marco Fardin che è anche l'ospite principale di questo episodio e così potrà rispondere alle domande dei partecipanti, approfondire gli argomenti di cui ci parlerà anche in questo episodio perché, ripeto, è lui l'ospite speciale di questo ventitressimo episodio. Sia io che gli organizzatori non vediamo l'ora di dare il benvenuto ai partecipanti. La presentazione dell'evento è naturalmente su www.tempodicambiare.it slash raduno e se sei così incosciente che non ti sei ancora prenotato e ti viene in mente proprio adesso di prenotarti due giorni prima del raduno, beh, sappi che a noi piacciono le persone incoscienti quindi sei il benvenuto a farlo. Dopodiché ci sarà il raduno e dopodiché, che dire, è Natale, iniziano le vacanze natalizie un po' per tutti e infatti a questo proposito c'è una novità. Con questo episodio del podcast finisce la seconda stagione di Tempo di Cambiare. Mi prenderò anch'io qualche settimana di pausa e quel che è peggio non ho ancora deciso quando riprenderò potrebbe essere la seconda metà di gennaio, potrebbe essere prima, potrebbe anche essere dopo. Sento un po' il bisogno di, come si dice, mettere un po' di distanza. A volte fa bene, anzi diciamo quasi sempre fa bene, soprattutto con i progetti che più ci stanno a cuore mettere un po' di distanza, guardarli da lontano, con distacco, in modo da poter ridecidere che ruolo devono avere questi progetti nella nostra vita e in quella degli altri. Così sento il bisogno di riesaminare tutto quello che ho imparato io stesso da questa esperienza a rivalutare quello che sta andando bene e quello che invece è da migliorare. E poi vorrei francamente riaggiustare un po' il tutto, nel senso che il podcast è iniziato in fretta e furia, in maniera un po' improvvisata, la scorsa primavera, appoggiandolo su www.biglioriamo.it che era un sito comunque ormai fermo da alcuni mesi. Così ho in programma l'uscita di un nuovo sito con cui condividere anche le mie riflessioni, anche in forma scritta. E così vorrei far concidere queste due cose. La ripresa del podcast e l'inaugurazione di questo nuovo sito che ospiterà anche i podcast. E lo so che tutto questo è totalmente contrario a ogni regola del buon podcasting. Così direi il decalogo del podcasting dice Numero uno, sii costante, sii regolare nell'uscita dei tuoi episodi, altrimenti i tuoi ascoltatori non sapranno più cosa pensare, altrimenti gli ascoltatori si disperderanno, altrimenti iTunes ti cancella da tutte le classifiche, altrimenti il tuo podcast perde valore agli occhi dei motori di ricerca, agli occhi del pubblico e così via. Io non ho mai fatto questo podcast trattandolo come un lavoro, non l'ho mai fatto con ambizioni particolari, l'ho sempre fatto come una ricerca personale da condividere con gli amici. Anche se gli amici sono diventati 10.000, per me sempre amici sono, sono convinto che gli amici giusti ritroveranno questo podcast quando ricomincerà, si spera, in qualche tempo all'inizio del 2013. In questa puntata la cover story è la mia intervista a Marco Fardin, l'abbiamo conosciuto nel settimo episodio del podcast, è il nostro esperto di calendario Maya e ormai quasi non ha bisogno di presentazione. Quindi quale momento migliore di questa immediata vigilia del 21 dicembre 2012, il fatidico 21 dicembre 2012, per interrogare Marco Fardin e il calendario Maya su quello che sta accadendo nel mondo e quello che ci aspetta subito dopo. Quindi, tra 15 secondi, partiamo con l'intervista. Hello, eccoci in linea con Marco Fardin che i nostri ascoltatori hanno conosciuto nell'episodio 7 di questo podcast, anzi in effetti raccomando chiunque non l'avesse già fatto di andarsi a riascoltare obbligatoriamente l'episodio 7 di Tempo di Cambiare con la mia intervista a Marco Fardin. Marco, grazie per aver riaccettato il mio invito. Grazie mille a te Italo, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie Marco, siamo in due città marinare, io sono a Malta, tu sei a Genova e sono il 12, 12, 2012, ore 12. Come ti sembra un buon auspicio questo? Ma intanto siamo ancora qui sui piani fisici a parlare, perché ci sono molte teorie che parlano dell'ascensione che dovrebbe venire a mezzogiorno di oggi. Quindi potremmo scendere durante l'intervista magari? Eh, potrebbe essere. Marco, non so cosa è il caso di riepilogare o no sulla tua visione, la tua lettura ispirata a quella dell'altro ricercatore, Karl Kallmann, svetese, sull'interpretazione del calendario Maya. Non so cosa è il grado di riepilogare o cosa è il grado di rimandare direttamente il nostro ascoltatore, ripeto, all'episodio 7. E questa è la prima domanda che ti faccio, soprattutto sulla famosa diattriba 21 dicembre 2012 e invece la datazione diversa data da Karl Kallmann. Se ti sembra il caso di fare un breve riepilogo su questo. Sì, va bene. Allora, la data del 21 dicembre 2012 è corretta dal punto di vista archeologico, in quanto è una data che è stata data, non come data di fine naturalmente, ma come data di inizio, del lungo computo, che è un livello della piramide del calendario Maya profetico, il sesto livello, che sarebbe cominciato nel 3114 a.C. per la precisione l'11 agosto 3114 a.C. e finirebbe il 21 dicembre 2012. Questa datazione, ripeto, corretta, probabilmente elaborata nel 32 a.C. è stata rivista nella città di Izaf, nella costa pacifica del Messico, è stata poi rivista a Palenque parecchi secoli dopo, sempre nel Messico, secondo un'altra data di inizio, che corrisponde nel nostro calendario gregoriano al 17 giugno 3115 a.C., quindi 420 giorni prima, il cui termine è il 28 ottobre 2011. Allora, tradizionalmente la prima data, quella che finisce il 21 dicembre 2012, è la data tradizionale del calendario Maya lungo computo, però ci sono vari indizi, più che indizi per me sono prove, che invece riportano la datazione corretta, dal punto di vista energetico, al 28 ottobre 2011. Quindi, secondo questa visione, la fine del calendario Maya già ci sarebbe stata, quindi se qualcuno dovesse domandare ok, cosa succederà dopo il 21-12, tu potresti rispondere, succederà quello che sta succedendo dal 28 ottobre a oggi? Sì, C'è una cosa però da dire, che milioni di persone attualmente, in tutto il mondo, credono a questa data finale del calendario Maya, con il correlato di agganciarla ad una catastrofe, probabilmente. Questo potrebbe creare una forma pensiero. Sì, un'egregora più che una forma pensiero, cioè una forma pensiero gigante, che come sappiamo poi sono le profezie che si autoavvienano, c'è una grandissima energia. E se un potere oscuro dovesse scegliere tra tutte le date possibili, quella in cui scatenare una catastrofe, sceglierebbe evidentemente la data dove milioni di persone sono già sintonizzate. Quindi questo è il pericolo che c'è, è un pericolo reale. Sì, anche perché è stata data tanta pubblicità, anche come tu dici, da parte dei poteri oscuri, è stata data talmente di quella pubblicità e avvertimenti in tutte le forme che potrebbe, insomma... Insomma, io se facessi parte, spero che non abbia fatto parte, però sceglierei, insomma, per non saperne leggere ne scrivere quello datato di... Tipo un blackout, un cataclisma, un'interruzione di tutti i servizi bancari mondiali. Quale data migliore del 21 dicembre? O anche un'invasione aliena. Un'invasione aliena simulata, che poi tra l'altro è un venerdì sera, o comunque un venerdì, quindi diciamo, se tenendo presente o dopo c'è un sabato, una domenica, nel caso per esempio dei servizi bancari, sarebbe un bel grattacapro. Ok, cerchiamo di non dare anche noi energia. Va bene, cambiamo subito il discorso. Però, essendo realisti, è un problema questo. Marco, allora, noi ci siamo sentiti nella primavera di quest'anno, 2012. Che cosa è successo dalla scorsa primavera a oggi, dal punto di vista del calendario Maya, e a che punto siamo in questo percorso evolutivo di cui ci parlavi nello scorso episodio? Allora, sì, senza ritornare quello che ho detto la volta scorsa, che si può riascoltare, però è soltanto questo piccola cosa, dei livelli. Il calendario Maya profetico, in Thun, è un calendario che si basa su cicli di 360 giorni, quindi cicli che non c'entrano con la rivoluzione del pianeta Terra intorno al Sole, sono cicli spirituali di evoluzione, che hanno la caratteristica di aumentare la loro frequenza di 20 volte salendo i vari livelli. Quindi, se prendiamo gli ultimi due livelli, l'ottavo e il nono, la frequenza di cambiamento nell'ottavo è ogni 360 giorni, e nel nono ogni 18 giorni. Attualmente, dopo il 28 ottobre 2011, oppure se vogliamo prendere la data che io ritengo scorretta, del 21 dicembre 2012, quindi comunque ci siamo, tutti i nove livelli di evoluzione di coscienza sono attivi. Noi siamo nati tutti, a meno che non siamo nati dopo il 1999, nel settimo livello di coscienza, che è partito nel 1755, e continuano tutti contemporaneamente, naturalmente. È iniziato, scusa, nel 1755. Dopo 20 anni, c'è stata poi anche la fondazione degli Stati Uniti, perché è passato il primo periodo di 20 anni, il cambiamento avviene ogni 20 anni, nel settimo livello di coscienza. È la famosa crisi generazionale tra genitori e figli, i genitori non prendono i figli perché hanno 20 anni di meno. Quindi ogni 20 anni c'è un cambiamento in questo settimo ciclo, che però è il materialismo, il materialismo oscuro, cioè si perde praticamente il contatto con la fonte divina, con, i maio lo chiamavano Hunab Ku, tradotto in italiano è l'unica sorgente dei limiti e della creazione. Si perde questo contatto, è necessario nel piano divino, diciamo così, che ci sia questo passaggio perché in questo modo si può creare l'ego, la coscienza individuale e i manufatti materiali. Questa energia è quella che abbiamo respirato fin dalla nascita, insomma noi che siamo nati tra il 1755 e il 1999 ed è anche un po' il limite che ci portiamo dietro, è la parte che dobbiamo trascendere e superare. Quindi adesso parlerò magari dell'ottava onda e della nona onda. L'ottava onda che è partita nel 1999 ha un ritmo di cambiamento ogni 360 giorni, mentre la nona che è partita il 9 marzo 2011 ogni 18 giorni. L'ottava deve portare il rialineamento della coscienza femminile rispetto a quella maschile a tutti i livelli. Uno di questi livelli è, tra virgolette, una rivoluzione rispetto al potere costituito perché il potere si basa sulla gerarchia maschile. Mentre la nona onda è un passaggio ulteriore chiamata anche co-creazione consapevole è, tra virgolette, smettere di dare la colpa all'esterno, cioè smettere di dipendere nella propria creatività dall'esterno, dalla cosiddetta trasformazione di coscienza, ma iniziare a fare un percorso interiore di trasmutazione di coscienza, cioè modificare se stessi per raggiungere la propria unità interiore in modo che il mondo esterno si modifichi. Molto interessante questa, molto bella. Per semplificare con un esempio che è molto semplice nella vita di coppia, la trasformazione di coscienza è, ad esempio, io che ho una fidanzata, la prima fidanzata che è fatta in un certo modo con delle caratteristiche della personalità, ma che è molto disordinata. Io sono molto ordinato e lei è molto disordinata. Dopo un po' ci lasciamo, questa è la trasformazione. Con la seconda fidanzata è la stessa cosa, ci lasciamo sempre perché lei è disordinata. Alla ventesima fidanzata dico forse c'è qualcosa che non va in me. La trasformazione di coscienza è, al primo colpo, diciamo così, mi accorgo che il disordine già distanzata sta per la mia mancanza di spontaneità. Cioè io vedo in lei il disordine che è la parte negativa del mio eccessivo ordine, cioè della mia mancanza di spontaneità. La trasmutazione è entrare in contatto con la mia spontaneità e per magia, diciamo così, il mondo esterno si modifica. Cosa voglio dire? La mia fidanzata, senza che io ridica niente, come... Non attirerai mai più fidanzate di ciordinate. A parte quello, ma già con la prima fidanzata, se io sono più disordinato, te lo direte, cioè se mi lascio andare più al mio istinto, lei diventa più ordinata, senza che io faccia niente. come i vasi complicanti. Quindi il mondo esterno si modifica. Questa è l'idea della nona onda di coscienza. Noi però ci portiamo dietro una grande eredità da questa settima onda, da questo materialismo, per cui vediamo tutto in termini materialistici. Ad esempio anche il 21 dicembre 2012, come qualcosa dall'esterno che deve modificare la nostra coscienza. Cioè quella che tu chiami l'influenza del materialismo è che noi facciamo dipendere le nostre circostanze, la nostra felicità, la nostra sofferenza da un evento esterno. Qualsiasi sia, non soltanto materiale, non voglio dire che deve essere la materia, cioè i soldi ad esempio, ma anche nelle relazioni, anche... Facci un esempio di come questo inquina anche le convenzioni spirituali. Allora, senza generalizzare però, nel caso del nuovo spiritualismo, della New Age, è un caso recente, quello che sta succedendo adesso, quello che dovrebbe succedere oggi, che c'è un allineamento di una data, 12-12-12, che dovrebbe modificare una griglia energetica e quindi noi di conseguenza ci modifichiamo. Certo che c'è un feedback, no? Tra la modifica mia e quella del pianeta e viceversa. E a parte che questo 12-12-12 si basa sul calendario gregoriano che quanto di più materialistico ci sia perché ci connette a un ciclo di rivoluzione planetaria che è immateriale. però, ecco, far dipendere il mio cambiamento interiore da un allineamento o da una meditazione globale è appunto questa visione qui di cui ti parlavo. Un materialismo spirituale. In qualche modo, sì, che crea poi il super ego. Non solo l'ego, perché almeno l'ego, cioè la maschera, si può poi, come dicevi tu nello scorso episodio del tuo podcast, può essere il combustibile, no? dello sviluppo spirituale. Il super ego, invece, no. Eppure neanche combustibile. Interessante. Quindi, non so, filosofie messianiche, alieni buoni che sbarcano e cambiano la nostra vita. Insomma, è il solito pensiero ricorrente? Sì, è sempre la stessa cosa perché poi la forma mentis è la medesima. Cioè, cambiano le modalità ma poi alla fine è sempre la stessa cosa. La partice è sempre la stessa, secondo me. Allora, questo processo di liberazione che è innanzitutto liberazione della nostra coscienza, come si sta svolgendo dall'ultima volta che ci siamo sentiti ad oggi? Allora, l'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo più o meno a metà del 2012, quindi eravamo all'inizio della fase ascendente della settimanotte dell'ottava onda. Ripeto, allora, l'ottava onda è l'onda femminile che mette in crisi le gerarchie. Tra virgolette anche l'onda del massimo della reazione delle gerarchie, perché prima, finché eravamo tutti allineati con il materialismo non c'era bisogno di nessuna reazione di sorta, tanto c'era soltanto qualche d'uno che ogni tanto si ribellava veniva fatto fuori e non c'è un po' di problemi. Invece che adesso milioni di persone sono in fase di risveglio, allora bisogna aumentare e velocemente la repressione, microchip, scie chimiche, eccetera, questa è proprio una necessità di questi poteri costituiti. Comunque, l'ottava onda a livello interiore nelle persone è il mettere in discussione tutte le gerarchie, quindi è un'onda ancora dualistica e non è tanto bella perché è un'onda di crisi, metto in discussione quella a cui ho avuto finora le tradizioni, le gerarchie non è simpatico. E quindi è un'onda di ribellione, diciamo così? In qualche modo sì, poi può essere declinata nel modo da farsi riassorbire da chi vuole che questa ribellione vada in alcuni canali, non mi farei dire di più a livello politico, è certo, è certo. Oppure può essere una ribellione tra virgolette costruttiva, facciamo un esempio, l'euro è la moneta creata nell'ottava onda praticamente, no? Del 99 in poi per portare l'ambito materialistico in un livello più di unità, diciamo così. I partiti politici stanno facendo la stessa cosa, però noi possiamo andare contro tra virgolette l'euro facendo delle manifestazioni che poi non servono a niente perché anzi danno credito a una repressione oppure cominciando a fare qualcosa da ottava onda che sono gli scambi dell'euro tra le persone economiche, soprattutto di economia. Quindi, monete alternative, baratto, evoluto, diciamo così, quello è il modo di ribellarsi corretto, non certamente facendosi riassorbire nel circuito della matrice. Quindi, diciamo così, nella settima notte che è praticamente stato 2011 dell'ottava onda di questo periodo ne abbiamo portato alla applicazione concreta il settimo giorno. Nei giorni abbiamo sempre un'espansione, nelle notti un'applicazione concreta. Il settimo giorno, per semplificare il 2011 di questa ottava onda, è stata la presa di coscienza che il sistema è marcio, e l'abbiamo visto anche con l'ultimo, in Italia, con l'ultima illusione, la caduta di Berlusconi, che avrebbe dovuto cambiare le cose, invece abbiamo visto che è venuto dopo Berlusconi e banche pure. Quindi questa è stata la caduta finale delle illusioni che con il vecchio sistema di potere si potesse creare qualcosa. Questo è stato 2011. Nel 2012 si è applicato a livello pratico questo, quindi abbiamo avuto nella prima parte tutto il montismo, nella seconda parte un inizio, cioè dal 25 aprile 2012 in avanti, un inizio di presa di coscienza e di programmazione del cambiamento. Ed è stata la parte proprio in cui è nato tempo di cambiare, nella seconda parte è un elaborazione anche tempo di cambiare, un laboratorio, diciamo, un'elaborazione di nuove forme, no? Contro, tra virgolette, contro quelle precedenti. Il 23 ottobre 2012 siamo entrati nell'ottavo giorno di quest'onda. Quindi dal 23 ottobre 2012 al 18 ottobre 2013 siamo nell'ottavo giorno, nella fase di espansione. Ed è molto importante perché la sesta onda, che è l'onda l'opposta, l'ottava, perché la sesta è il maschile, l'evoluzione del maschile, dell'energia maschile, l'ottava è l'evoluzione dell'energia femminile. La sesta onda è ancora in una settimanotte per molti anni, per ancora 393 anni, quindi rimarrà per tre secoli nella settimanotte. Ma notte che vuol dire? Cioè, dormi, dormiente. Ma hai detto che rappresenta l'applicazione pratica? L'applicazione ma anche non c'è evoluzione, rimani fermo in qualche modo. Non c'è espansione, ok. C'è espansione, quindi se ne va a dormire in qualche modo per 393 anni il maschile. Ormai quello che ha fatto l'ha fatto, non ha più questa necessità di espandersi ancora di più. La razionalità l'abbiamo imparata in qualche modo da parte del maschile. Adesso anzi prenderemo solo le cose positive nel futuro. Invece l'ottava onda va nell'ottavo giorno, cioè supera il maschile in qualche modo. questo significa che a partire dallo scorso ottobre dice? 23 ottobre, Le gerarchie saranno seriamente messe in discussione, cioè sarà l'anno delle rivoluzioni questo, soprattutto partire dall'Italia, Italia e Germania, perché Italia e Germania si trovano sul punto centrale dell'albero del mondo che è il meridiano 12 est che passa da Oslo, Berlino, Venezia, Roma, Tripoli, Mishabon e Sudafrica. quindi 2013 è l'anno dell'Italia, diciamo, della rivoluzione. Come si declinerà? O in senso materialistico, quindi di nuovo riassorbibile dall'elite, spero tanto di no, o in un senso più profondo, quindi di vera trasmutazione e cambiamento degli scambi, quello che fa veramente cambiare delle cose. Vedremo, questo non posso dire. Comunque, il punto di picco di questa presa di coscienza, di questa espansione sarà il 20 aprile 2013, al picco dell'ottavo giorno, poi si scende, sempre nel giorno, ma si scende. Quindi da ora al prossimo aprile è tutto un crescendo di questa situazione? Un crescendo di persone che si stanno veramente rompendo le scatole di questa situazione, quindi nella migliore delle ipotesi si stanno organizzando, nella peggiore seguiranno poi gli eventi e poi vediamo che può succedere. Quindi questa è l'ottava onda, giusto? L'ottava onda, sì. E invece la nona? La nona onda invece è molto più veloce, ogni 18 giorni c'è un cambiamento e la nona onda è gli eventi determinati da un cambiamento di coscienza. Quindi ogni notte e ogni giorno durano 18 giorni? Quindi nel giorno hai un'espansione della verità poi in pratica, Nella notte hai un'applicazione, cioè quelli che non ci sono arrivati durante il giorno ci arrivano durante la notte, diciamo così. E con un assorbimento. Un assorbimento e arriva anche poi nella materia, no? si integra. Questa va molto più veloce, va così tanto veloce che ora siamo già al al diciottesimo giorno, le diciottesima notte in questo periodo qui, per quanto sta andando veloce. Tanto che siccome il calendar omaya tu lo puoi espandere o microcosmo e macrocosmo, lo puoi allargare e diminuire come vuoi, diciamo così, i cicli li puoi espandere all'infinito e restringere all'infinito. Lo stesso Kalleman ho sentito recentemente un'intervista sostiene che per quanto riguarda la nona onda affinché venga assorbita in una popolazione nata soprattutto prima del 1999 quindi molto materialistica ci vorranno un po' di anni e questa datazione di anni si basa sull'allargare la nona onda considerando tutta la nona onda cioè dal 9 marzo al 28 ottobre 2011 come il primo giorno diciamo così il periodo successivo di 234 giorni come la prima notte fino ad arrivare al settimo giorno c'è un ciclo completo è stato un po' difficile questo concetto si come sei preso hai accorpato fra di loro diverse sequenze di giorno e notte per creare dei cicli più grandi si praticamente ho preso tutta la nona onda che è andata dal 9 marzo al 28 ottobre 2011 nella sua fase di attivazione che era divisa in 13 periodi e ho fatto tutta l'enorme prima onda l'enorme sette mesi nona onda l'ho fatta valere come il primo giorno poi una seconda nona onda come la prima notte con il significato che ha il primo giorno e la prima notte magari poi lo possiamo vedere e in effetti adesso vedendo la posteriore sta veramente funzionando così quindi questa possibilità di allinearsi alla nona onda c'è stata per chi la conosceva nel 2011 io personalmente conoscendola l'ho seguita giorno per giorno però è come se ci fosse la possibilità anche poi di alinearsi nel tempo questo ciclo di espansione diciamo della nona onda completo arriva ho fatto stamattina tutti i calcoli al 15 luglio 2019 quindi affinché tutta la nona onda si espanda diciamo e prenda più persone possibili in un ciclo frattale espanso massimo arriva fino al 2019 con il giorno di cambiamento cioè il punto di mezzo esatto di quest'onda che in tutte le onde precedenti ha sempre significato un grande cambiamento nel calendario gregoriano l'11 maggio 2015 quindi questo periodo prima di questa svolta l'11 maggio 2015 cioè da 2011 a 2015 sono gli anni che poi corrispondono anche nell'astrologia alle sette quadrature tra urano e plutone che sono molto importanti in livello astrologico corrispondono al periodo in cui bisogna che questa nona onda gradualmente venga conosciuta dalle persone cioè che questa mentalità che si sgancia dal materialismo cominci a radicarsi quindi se abbiamo definito come materialismo l'attitudine mentale di far dipendere dall'esterno la propria felicità la propria sofferenza il proprio progresso le circostanze della propria vita e così via invece questa nona onda significa? significa invece invertire che è solo un processo di trasmutazione interiore che fa modificare le cose esterne una responsabilità maggiore in qualche modo come l'hai chiamata? co-creazione consapevole co-creazione consapevole in pratica dal subconscio collettivo che è il regno della pubblicità della propaganda dei condizionamenti degli arconti per usare questa terminologia è il subconscio collettivo che è formato dalla somma del subconscio di ognuno alla coscienza collettiva che è consapevole cioè svelo tutti i condizionamenti quindi divento consapevole dei miei condizionamenti subconsci a livello individuale e divento sempre più un'unità in me stesso si potrebbe dire divento libero senza neanche bisogno di ribellarmi a nessuno esatto solo una somma olistica naturalmente non meccanicistica di uomini e di donne libere creano in un mondo libero il concetto di individualità è fondamentale tutti i sistemi che vogliono imporre la libertà o l'unità dall'esterno sono totalmente deleteri sono una nuova forma di comunismo senza offesa per il comunismo quindi deve essere un percorso individuale di unità mai collettivo molto interessante ma sì perché è un altro non peraltro perché è un altro livello di illusione quello del collettivo mamma mia è un altro livello cioè a questo punto non dipende più da me sono le masse di cui faccio parte che mi assolveranno di ogni peccato e così via dei movimenti eccetera eccetera quindi è proprio un'altra mentalità i partiti fanno proprio parte della settima onda i partiti il partito vuol dire il concetto del partito una parte prendo è proprio ci fatti miei contro di te una parte contro l'altra abbiamo uno famosissimo di un mio conterraneo senza fare nomi per carità che tra entesi il suo blog si è sviluppato dopo il 2005 il 2005 è stato l'anno in cui eravamo a metà dell'ottava onda come ti dicevo prima quando arrivi a metà di un'onda poi si vedono gli effetti conterraneo perché tu sei di Genova giusto? sempre senza fare nomi giusto? senza riferimenti che poi per tanti aspetti io vedo inquadrando questo movimento nell'ottava onda apprezzo cioè non è che disprezzo però poi poi si torna sempre insomma a rientrare nel sistema no? sì perché è la ribellione che in quanto tale a un certo punto ha bisogno di riconoscere il sistema in cui si ribella certo e quindi ci sono vari passaggi da fare naturalmente se una persona vive totalmente nella mentalità materialistica non significa che la materia non abbia un valore ha un enorme valore significa che rimaniamo solo lì che è il nostro orizzonte cioè se mi fanno la riga nella macchina esco col cric e spacco la testa che mi ha fatto la riga questo è il materialismo estremizzato cioè il mio orizzonte è soltanto materiale non va oltre ci vuole del tempo perché le persone che sono nate hanno respirato come mi è successo a me i miei genitori volevano che io mi sposassi lavorassi facessi due figli punto non mi interessava nient'altro non è che mi interessava quando poco fa dicevi l'ottava onda è partita nel 99 a quel punto siccome è recentissima l'intervista con Varo Venturi lo scorso episodio non ho potuto fare a meno di fare un click nella mia mente che non avevo fatto nello scorso episodio che la nuova onda è quello che invece Varo Venturi afferma è l'inizio di internet l'inizio di internet a cui fra l'altro lui ha dato una valenza anche vabbè tutte le cose hanno una valenza positiva e una positiva una valenza positiva e una negativa però lui ha voluto accentuare nel 99 questo processo di progressivo quasi asservimento dell'uomo a stare isolato dagli altri uomini fermo davanti a un monitor da questo punto di vista come lo vedi tu questa situazione dal 99 in poi che cosa potrebbe rappresentare vedo la stessa cosa che vede lui concordo al 100% su questo perché è successo evidentemente noi dobbiamo sempre vedere da dove parte la materia la materia deriva sempre dalla coscienza da un cambiamento di coscienza quindi parlo a partire dalla nuona onda no? esempio che faccio sempre in ogni occasione però è molto chiaro i nostri palazzi che sono fatti io abito in un condominio quindi ho il palazzo squadrato davanti a un altro palazzo squadrato che non c'entra nulla con la natura è stato elaborato in una mentalità la mentalità tipica della settima onda che è il materialismo il razionalismo la casa ideale sarebbe una tenda rotonda nell'unità una yurta esatto quindi vediamo anche però a livello sempre di nonna onda quindi sub specie eternitatis direbbero i filosofi quindi vedendo dall'alto a che cosa servono i manufatti materiali quindi noi abbiamo un settimo livello materialistico che ha un'accelerazione incredibile ma è ogni 20 anni quindi a livello di telecomunicazioni questa settima onda deve portare dalla coscienza di vivere in una nazione a quella di vivere in un pianeta coscienza planetaria quindi nei giorni partiamo dal primo giorno la teoria del telegrafo nel secondo giorno il telegrafo ottico nel terzo giorno il telegrafo elettrico nel quarto giorno il telefono nel quinto giorno di questo livello la radio nel sesto giorno la televisione e nel settimo giorno internet come vedete siamo passati da una comunicazione con i miei vicini di casa a una comunicazione tra Genova e Malta come con i vicini tra vicini di casa quindi questa settima onda ci ha portato alla comunicazione globale quindi anche alla globalizzazione con tutte le strutture alle multinazionali eccetera internet che è il risultato di questa settima onda quindi siamo nel materialismo nel settimo giorno hai il risultato dell'onda ma hai anche il trascendimento dell'onda quindi dopo pochi anni quindi dal 99 internet si comincia a diffondere che cosa porta internet porta da una parte che ne so lo stare tutto il giorno davanti al computer l'isolarsi i messaggi dell'elite la pornografia poi cosa porta lì negativo internet non so aiutami sì sì l'isolamento la separazione dalla natura dai ritmi di vita naturali esatto eccetera ma è anche lo strumento principe per contrastare i mainstream media come si dice quindi tu trovi su canale 5 Italia 1 trovi il bombardamento del governo siriano sui ribelli che loro il governo siriano non si sa perché chiama terroristi ma su internet puoi trovare se lo cerchi diciamo delle notizie dalle persone che abitano a Damasco che ti dicono quello che sta accadendo veramente che i ribelli sono i veri terroristi perché sono finanziati da KIA dal Qatar dall'Arabia Saudita dagli Stati Uniti da Israele eccetera quindi la maggior parte delle notizie che puoi avere su internet sono alternative al sistema nella prova anche la trasmissione da cui stiamo parlando che può unire anche le persone da questo punto di vista quindi è funzionale internet trascendendo il materialismo è funzionale a un'informazione alternativa che adottava un'idea di coscienza a creare un medium alternativo e quindi questa è l'altra parte quindi l'ottava onda è anche questo quindi dobbiamo sempre vedere quali dei due aspetti dobbiamo considerare la reazione oppure la possibilità innovativa e poi non è solo questo tantissime altre cose ad esempio le discipline naturali bionaturali sono rinate nel 99 in poi giusto interessante è sempre a proposito di futuro cioè pensavo negli ultimi due episodi e con gli ultimi due ospiti che avevo intervistato il punto il punto di vista che ne è uscito sul futuro non è necessariamente ottimistico anche quando in alcune occasioni ho fatto la domanda esplicitamente ai miei ultimi due ospiti e questa ripeto non è non è né una critica né nel voler trovare una visione opposta ma proprio perché ogni cosa dipende anche dal modo in cui la guardi quindi un punto di vista non necessariamente cioè esiste e lo hai appena detto tu stesso un effettivo potenziale futuro di totalitarismo internazionale nuovo ordine mondiale dittatura tecnologica e così via ma questo è uno scenario qual è l'opinione di un possibile futuro che tu ti sei fatto invece sulla base dei tuoi studi del calendario Maya io sono certo che il futuro non sarà questo certo perché puoi già sentire questa tua certezza e questa voce limpida ci solleva le nostre anime dal punto di vista scientifico perché considerando i livelli precedenti del calendario Maya che risalgono a 16 miliardi di anni fa con tutte le variazioni che avvengono sincronicamente nella storia nella biologia secondo i cambiamenti di giorni e di notte quindi io sono sicuro al 100% che la nonna onda ha bisogno di un po' di tempo per affermarsi la caratteristica della nonna onda che è co-creazione consapevole non avviene dall'alto quindi le persone si devono impegnare per sincronizzarsi su questo livello questo è un po' il problema diciamo così ma si manifesterà sicuramente è una certezza certezza certa aspetta aspetta questo è un concetto cruciale su cui io stesso non avevo riflettuto abbastanza allora tu stai dicendo in passato per esempio le rivoluzioni sono state iniziate dall'alto la rivoluzione francese la rivoluzione russa c'era un coordinamento dall'alto però sempre sempre a un cambio di baktun in questo caso scusate di kattun c'è un periodo di vent'anni cioè le rivoluzioni avvenivano sempre nel momento preciso in cui dovevano avvenire sincronicamente quindi senza la libertà di dire quando sarebbero avvenute quelle forme o chi le chi le faceva avvenire era libero no? a un certo punto perché poi non è neanche questo però insomma rappresentavano un'energia più grande dei suoi protagonisti diciamo così sì perché doveva partire lì doveva avvenire proprio in quel momento il ventegno napoleonico è esattamente il ventegno che poi corrisponde al 2001 nell'onda successiva cioè alle torri gemelle no? è sempre una seconda notte un secondo giorno per quanto riguarda i passaggi del canale il ventegno il ventegno napoleonico che è la distruzione attraverso Napoleone delle monarchie precedenti no? da parte di uno un imperatore corrisponde al 2001 che è la distruzione violenta delle certezze precedenti è la stessa cosa ok solo che più sali nella piramide guarda anche proprio il concetto di piramide come può essere visto no? come piramide di un certo tipo di un altro più sali nella piramide meno c'è questa stringenza precisa a livello meccanico delle cose che devono accadere quindi già l'ottava onda è già meno è già più con la partecipazione umana diciamo così la nona 100% la nona 100% quindi non ci sarà più una rivoluzione guidata dall'auto ci sono dal basso singoli individui che dovranno sincronizzarsi auspicabilmente cioè io sono sicuro che questa avverrà prima lo facciamo cioè prima usciamo questa idea materialistica meglio è perché poi le persone nate dopo 99 nate dopo 2011 cioè i ragazzi di oggi c'erano già dentro come io ho dentro il materialismo come io ho dentro al 100% partire dalla visione materiale poi mi sono fatto magari anni di lavoro interiore per uscirne i ragazzi giovani hanno già questa visione incorporata quindi il problema siamo noi la nostra generazione prima ci sbrighiamo cioè prima tu quindi ti stai ribellando contro questo archetipo come si dice prototipo del giovane instupidito da MTV o dalle discoteche e così via io vedo me instupidito da MTV perché io sono stato educato con i cartoni animati in televisione cioè questa è stata la mia educazione o con MTV ma non i giovani di oggi hanno già un'altra energia completamente l'importante è riconoscerla non lo facciamo più e quindi bisogna cercare nella nostra generazione che è poi da più problematica perché l'unica generazione che ha vissuto tre passaggi di coscienza tu immaginti una persona che è nata nel 1400 per dire o se è esistito a quel periodo lì comunque nel 1800 che ogni cambiamento c'era ogni 394 anni è logico che nella vita di una persona non c'era neanche un cambiamento a tre giorni ci volevano otto generazioni per fare un cambiamento e la generazione che ha adesso 50, 60, 40 30 anni si è vista la sua onda di nascita la settima poi nel 99 un nuovo cambiamento quindi distruzione di tutte le certezze precedenti e nel 2011 ancora un'onda in più quindi veramente problematica questa generazione qua quindi è una grande opportunità o un grande stress sulle spalle di chi non riesce ad adattarsi è uno stress per tutti sfido io a trovare qualcuno che non sia stressato negli ultimi anni poi si può reagire accettando questo cambiamento di frequenza quindi facendo un lavoro interiore eccetera oppure si può reagire aumentando la propria corazza il proprio ego di questo stale ci sono tre mondi adesso attualmente non ce n'è uno ah perché sono tutte tre attivi giustamente esatto c'è un autore io adesso sto scrivendo un articolo che uscirà tra qualche giorno in cui parlerò di questo ma c'è un autore molto famoso e che io rispetto molto che è un materialista diciamo così che divide la terra in tre terre terra A terra B terra AB diciamo così si chiama Georgi Stankov come i gruppi sanguichi diciamo e lui sostiene e lui sostiene che queste tre terre tra poco cioè il 21-2012 saranno tre terre proprio materiali diverse cioè ci sarà una tripartizione dei mondi tre mondi a frequenze diverse quindi la terra B è la terra attuale che peggiorerà sempre di più in cui viveranno un miliardo di persone secondo lui elite i criminali eccetera che si ruberanno tra di loro poi la terra A un altro miliardo di persone è una terra di unità quindi ha un'altra frequenza l'ascensione e poi per i restanti 5 miliardi di persone indecise ci sarà questa terra intermedia un limbo questa visione che io contesto alla radice ok però secondo me è vera è vera dal punto di vista del materialismo cioè lui ha avuto l'intuizione corretta di vedere tre mondi contemporanei ma non sono tre mondi fisici sono tre mondi attuali di uno è il materialismo uno è l'ottava onda cioè di ribellarsi e l'altro invece l'unica secondo me molto interessante ci sono già quindi la visione che hanno avuto i tuoi ospiti io la concordo pienamente con loro tra parentesi ho anche sentito delle interviste meravigliose che mi sono servite tantissimo però dipende a cosa ci allineiamo sia singolarmente sia globalmente la forza ce l'hanno le ultime onde non le precedenti quindi nel lungo periodo spero nel breve periodo ma nel lungo periodo come funziona come è sempre stato le vecchie onde poi alla fine si disgregheranno dipende solo da noi l'ultimo concetto fino a poco tempo fa noi non sappiamo niente di signoraggio non sappiamo niente di 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 securities and exchange commission di Washington che ne sapevamo di quelle cose vivevamo nella nostra frequenza materiale non c'era bisogno di niente non andavamo avanti così e ci sembrava tutto giusto adesso lo mettiamo in discussione è adesso che il terreno sta cambiando il batterio influenza su un terreno malato se il terreno è forte il batterio non attecchisce più fuori di metafora i vari banchieri Rothschild Rockefeller eccetera che hanno fatto il bello del cattivo tempo l'hanno potuto fare perché tutte le masse erano materialistiche quindi manipolavano chi manipola viene manipolato adesso che le persone si stanno risvegliando è più difficile attecchire su quel terreno bello bello molto bello molto interessante Marco come potremmo cos'altro potremmo aggiungere che potremmo aver lasciato fuori e qual è il modo migliore di concludere questa interessantissima conversazione cosa abbiamo lasciato fuori di tecnico tanto il messaggio principale è arrivato forte e chiaro sì magari non so quando andrà prestissimo prima del 21 dicembre 2012 sì prima del 21 dicembre sì sì ok allora se è prima del 21 dicembre 2012 che cosa posso augurare alle persone il 21 dicembre 2012 come meditazione non lo so per me il 21 dicembre 2012 è un'iniziazione cioè è un passaggio anche se non lo riconosco come data del calendario Maia però per me è un passaggio cioè è scegliere in pratica un valico diciamo così una scelta tra lasciarsi ingabbiare tra da tutto quello che questo hype questa esagerazione che c'è adesso no oppure scegliere la libertà la libertà interiore quindi o come tutti sono preoccupato da quello che potrebbe succedere in questo 21 dicembre 2012 ma scelgo quel giorno scelgo di di seguire il mio progetto di vita cioè di seguire le mie attitudini di portare avanti i miei sogni di collaborare con altre persone avanti i nostri sogni ecco questa sarà la mia scelta la mia meditazione quindi insomma credo che sia da fare una scelta di questo tenore qui lasciar perdere tutte le cose esterne tutte le anche le balle che ci vengono raccontate e far parte di delle persone che risuonano con noi verso la realizzazione del nostro progetto grazie Marco questo è un messaggio veramente bellissimo ricordaci come si fa a rimanere in contatto con il tuo lavoro le tue riflessioni i tuoi siti web allora il sito web si chiama www.coscienzacreativa.com con il collegamento alla pagina facebook che è nell'home page che viene aggiornata aggiornata molto sul sito ci sono solo diciamo così le cose basilari non è tanto aggiornato invece la pagina facebook che si può vedere anche se uno non è iscritto a facebook o sul blog ci sono un po' più di aggiornamenti ottimo grazie Massimo grazie Marco grazie in un'idea di quante richieste abbiamo ricevuto gli ascoltatori di tempo di cambiare che dicono Marco Fardin dovrebbe d'ufficio essere intervistato ogni tot di mesi ogni tot di settimane per i bei messaggi positivi e incoraggianti che ci dà quindi grazie veramente doppie grazie Marco da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori di tempo di cambiare grazie di cuore a tutti e un super grazie a te per quello che stai facendo grazie Marco un abbraccio grande e buon proseguimento grazie così grazie a Marco Fardin che ci ha dato modo di sintonizzare questo ultimo episodio della seconda stagione di tempo di cambiare su una lunghezza d'onda realistica ma positiva è inutile nascondere che ci aspetta un percorso molto accidentato nella nostra vita e nei prossimi anni questo è stato uno dei temi conduttori fin dall'inizio di tempo di cambiare però ecco questo corrisponde all'inevitabile trasformazione dal vecchio al nuovo il vecchio è destinato a disgregarsi probabilmente da sé senza neppure che lo si combatta e il nuovo è destinato a crescere a rafforzarsi e probabilmente a auto-organizzarsi a partire dal basso così come diceva Marco Fardin in una delle sue riflessioni che mi hanno più positivamente colpito e questo richiede tanta pazienza richiede tanto atteggiamento positivo mantenere la calma mentre tutto intorno le vecchie strutture a cui eravamo abituati si disgregano e questo è piacevole quando il vecchio rappresenta il vecchio nel senso negativo nel senso la negatività che c'è intorno a noi e anche in parte quella che c'è dentro di noi e invece è spiacevole il crollo delle vecchie strutture quando per vecchio intendiamo quelli che sono i tuoi punti di riferimento ciò a cui ti eri abituato ciò a cui pensavi di avere diritto la pensione che dovresti ricevere quando smetti di lavorare l'assistenza che dovresti ricevere quando sei malato quando parliamo di crollo delle vecchie strutture dobbiamo andarci piano a gioire sempre un'arma a doppio taglio non è mai piacevole in senso stretto ed è bene anche che noi si sia psicologicamente preparati a un periodo di cambiamenti turbolenti anche perché la situazione così come adesso è completamente insostenibile e questo le elite dei governanti e dei banchieri lo sanno benissimo insomma tutto anche questa intervista a Marco Fardin conferma che questo è realmente tempo di cambiare e siamo qui intorno a questo podcast accomunati dalla sensazione che è tempo di cambiare e siamo accomunati dal desiderio di trarre il meglio da questo cambiamento cioè dare il nostro migliore contributo a questo cambiamento così dicevo che per me è tempo di bilanci su questo podcast che oggi finisce la sua seconda stagione e così voglio condividere con te qualche riflessione su quali sono le cose di cui sono più soddisfatto a proposito di questo podcast e quelle sono invece quello che penso si deve migliorare quello di cui sono più soddisfatto paradossalmente è quello che meno riesce a capire la maggioranza dei miei ascoltatori cioè che in ogni episodio io sospendo o per meglio dire a zero qualsiasi mia convinzione personale e mi dedico solo ad approfondire il punto di vista del mio ospite di quella settimana miei cari amici in quanto esseri umani abbiamo tutto da guadagnare nel sospendere temporaneamente le nostre convinzioni guardare il mondo dal punto di vista di un altro chiederci come sarebbe se questo fosse vero e questo è l'esatto contrario di quello che il nostro istinto ci spinge a fare solitamente noi pensiamo come posso dimostrare che io ho ragione e che quell'altra persona ha torto oppure ci chiediamo su cosa non sono d'accordo come posso dimostrare che si sbaglia come 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 devo formulare quella fatidica frase non sono d'accordo con te che è la tipica frase che glorifica il mio punto di vista allora adottando temporaneamente un altro punto di vista cioè quello di un altro essere umano addestriamo la nostra mente a espandersi oltre i propri limiti a diventare sempre più spaziosa e questa è la mia definizione di saggezza cioè quando non pensiamo più di avere in tasca una verità più grande di quella degli altri perché la verità le verità relative dipendono dai punti di vista la verità assoluta è libera da ogni punto di vista ti faccio un esempio dopo ogni puntata c'è qualcuno che mi domanda ma Italo come è possibile che tu abbia affermato questo e quest'altro o come è possibile che tu sia sempre d'accordo con l'ospite che intervisti non hai opinioni tue hai intervistato non so intervista un massone l'amico Daniele sembrava che eri d'accordo con lui poi l'intervista a Paolo Franceschetti blog antimassoneria e sembra che sia d'accordo con lui cioè tu che sei d'accordo con tutti e così via oppure qualcuno mi domanda come puoi aver affermato questo e quest'altro oppure questo è il contrario oppure come si concilia questo con il tuo punto di vista buddista non avevi detto che eri buddista eccetera 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 perché qui tanti ascoltatori sanno che io dal punto di vista personale seguo gli insegnamenti di liberazione della tradizione buddista anche se ho scelto di non farne un punto focale di questo podcast perché anche perché sono cose di cui parlo approfonditamente nei miei corsi di meditazione per chi è interessato e ne parlo anche nel mio programma www.meditazioneguidata.it e così allora mi chiedono ma cos'è che tu pensi veramente perché sembra che tu sia d'accordo perché come si concilia questo con le tue convinzioni e così via e qui ci sono sempre tante possibili risposte la risposta numero uno è anzitutto che non ho affermato nulla in senso definitivo ma ho soltanto per tutta la durata dell'episodio di qualsiasi episodio messo da parte le mie convinzioni e sperando fra l'altro di essere anche di buon esempio per i miei ascoltatori perché penso che sia utile mettere da parte le proprie convinzioni e mi sono dedicato a vedere il mondo attraverso gli occhi di un'altra persona cioè attraverso un diverso punto di vista che credo sia uno degli addestramenti più utili in assoluto tutte le volte che io lo faccio personalmente scopro cose nuove e l'altra risposta che si potrebbe dare a questa domanda è che come dire il bigotto evita di farsi domande che possano mettere in crisi le sue convinzioni mentre la persona dotata di senso critico il vero praticante spirituale se parliamo di buddismo nell'esempio di prima cerca cerca invece in tutti i modi di mettere in crisi quello in cui crede così da poter creare una sintesi nuova che comprende sia le sue convinzioni precedenti e sia le nuove scoperte questo è quello che ti raccomando di fare fammelo ripetere sfida le tue convinzioni cerca di metterle in crisi così potrai creare tu stesso una sintesi nuova fra le convinzioni che avevi prima e le cose nuove che hai scoperto in questo modo la tua fede non sarà fede cieca la tua convinzione non sarà fede cieca sarà il frutto delle tue riflessioni il frutto della tua meditazione e in questo modo potrai anche essere più utile agli altri perché quando riceverai una domanda o riceverai un'obiezione chi è bigotto non saprà come rispondere chi invece ha pensato con la propria testa saprà sempre come rispondere anche per cui quella domanda se l'era fatta prima lui stesso questo per me è un importante punto di forza del podcast una cosa ben riuscita di cui sono contento punti da migliorare invece di questo podcast secondo me il forum tempodicambiare.it slash forum il forum è una comunità di discussione lo so che è sempre comunque il destino dei forum è quello lo so che è comunque una piccola minoranza di ascoltatori che si prendono il tempo di frequentare il forum però vedo ancora troppe persone che si rispondono dicendo non sono d'accordo con te e questo come dicevo un attimo fa è un esercizio sterile non porta saggezza non porta crescita la saggezza consiste nel fatto che io e te ci mettiamo insieme e ci domandiamo come potrebbero essere vere contemporaneamente le cose che dici tu e le cose che sto dicendo io qual è il livello a cui entrambe le cose che noi diciamo sono vere contemporaneamente creare una sintesi sarebbe un'esplosione di scoperte dopo scoperte dopo scoperte dopo scoperte se tutti facessero così nel forum adesso non dico tutti ma sarebbe bene se almeno una minoranza consapevole facesse questo invece io non vedo praticamente nessuno nel forum fare questo discorso a parte i nostri tre meravigliosi amministratori che sono Antonio quelli devo citare Antonio Sanni e Max Maximilian a cui vanno i miei più incredibili ringraziamenti da parte mia da parte di tutta la comunità del forum perché sono veramente straordinari e sono veramente i pilastri e le colonne portanti del forum grazie Antonio grazie Sanni grazie Massimilia Maximilia a parte loro diciamo così tutti giocano a fare il gioco del non sono d'accordo con te mi dispiace non sono d'accordo con te dico così dico là per me non è a questo che doveva servire il forum certo qualcuno potrebbe dire è normale il forum serve per discutere ognuno dice la sua servono anche un po' per ammazzare il tempo però per me non è a questo che doveva servire se per voi è normale che un forum serve a esprimere controversie e così via io contro di te io non sono d'accordo e così via allora non siamo diversi dalla maggioranza pecorona e allora io qui lancio una provocazione o il forum migliora diventa un luogo di cooperazione in cui ci si domanda non chi ha ragione e chi ha torto ma ci si domanda come potremmo aver ragione tutti e due e non ce ne siamo ancora accorti o questo succede questo miglioramento accade oppure all'inizio del 2013 io potrei prendere seriamente in considerazione l'idea di chiudere il forum e così vediamo se questa provocazione ci aiuta a migliorare questo aspetto che secondo me è da migliorare continuiamo fra 15 secondi ok continuando con i bilanci che idea mi sono fatto personalmente in tutti questi mesi di podcast sul quadro generale della situazione mettiamolo fra virgolette perché è un po' una delle chimere uno del santo graal di questo podcast quello di riuscire a ricostruire il quadro generale della situazione di ciò che sta accadendo nel mondo dietro le quinte e così questo ultimo episodio della seconda stagione è l'occasione perfetta per riassumere quelle che sono le mie riflessioni e il mio punto di vista visto che solitamente lo metto in disparte per fare spazio a quello dei miei ospiti questo non è facile ovviamente rispondere a questa domanda la mia impressione è sempre più che esiste una specie di cospirazione globale e qui non sto dicendo niente di nuovo ma la cospirazione globale è un po' diversa da come ce l'eravamo immaginata o sicuramente da come me l'ero immaginata io all'inizio mi sembra o affermo o ipotizzo che è in pieno corso di svolgimento una cospirazione globale che ha come scopo quello di scatenare la paura e la rabbia nell'umanità tutte le tematiche che affrontiamo in tempo di cambiare le falsità che ci raccontano i libri di storia il nuovo ordine mondiale la finta repubblica italiana che in realtà è una company il finto cristianesimo che in realtà la chiesa di Roma è la soppressione della sovranità individuale la soppressione dell'energia libera la dittatura delle banche il denaro basato sul debito la truffa del debito pubblico tutte queste cose cospirano per scatenare in noi la paura e la rabbia e al tempo stesso più indaghiamo su queste cose più scopriamo una trama di falsità perché la prima falsità o primo livello di falsità è la realtà tra virgolette come ce la raccontano i libri di storia i quotidiani e i telegiornali ma poi c'è una seconda falsità cioè tutto quello che scopriamo sotto tutto quello che scopriamo sotto la realtà che andiamo a disotterrare anche quella quando l'affronti di petto si dimostra falsa cioè la realtà fa virgolette non è altro che un gioco di falsificazioni diversi livelli di falsificazioni che sembra essere pensato strategicamente per scatenare la nostra paura e la nostra rabbia io non mi tiro fuori da questo io stesso ho iniziato questo podcast perché ero indignato contro tutte le brutture tutte le sofferenze che ti tocca di vedere soprattutto se non credi più alle bugie dei quotidiani e dei telegiornali quindi ho accompagnato migliaia di ascoltatori alla scoperta di una realtà totalmente nuova o una versione della realtà completamente nuova e diversa rispetto a quella ufficiale e nel far questo mi sono preso una bella responsabilità e però forse senza volerlo sono diventato anch'io un partecipante complice di questa cospirazione globale c'è uno scrittore cult degli anni 70 Robert Anton Wilson che per primo per primo all'inizio degli anni 70 ha parlato di illuminati cospirazioni e così via i suoi libri sono comunque consigliati diceva il vero segreto degli illuminati è che tu non sai di farne parte così probabilmente anch'io ho fatto il gioco degli illuminati divulgando certe notizie che attenzione non è che siano false sono comunque più vere di quelle dei quotidiani e più vere di quelle dei telegiornali il punto è che obiettivamente la funzione di queste notizie la conseguenza di queste notizie è quella di generare paura e rabbia a meno che questo non sia il loro unico scopo bene dopo dieci mesi di podcast io sto arrivando è sempre provvisorio parliamo sempre di riflessioni sto arrivando alla convinzione che il vero marchio della cospirazione globale è la falsità questa è la mia nuova provvisoria ipotesi di lavoro non solo la storia che ci raccontano è falsa non solo la repubblica italiana è falsa non solo il cristianesimo della chiesa di roma è falso non solo il debito pubblico non esiste l'abbiamo visto il denaro in circolazione è falso ma io inizio a pensare che perfino il nuovo ordine mondiale è falso una bufala perfino la soppressione della sovranità individuale è falsa e forse alla fine scopriremo che perfino le scie chimiche sono false intendo dire tutte queste sembrano strategie psicologiche fatte apposta per seminare paura e rabbia questa è la mia ipotesi di lavoro e allora chi secondo la mia ipotesi è responsabile di questa cospirazione globale e perché vogliono tenerci in uno stato di paura e di rabbia i responsabili di questa cospirazione potrebbero essere i governanti la mia impressione è no perché il 100% dei governanti in senso stretto a livello mondiale sono incompetenti sono completamente incompetenti nel loro ruolo di governanti e questo include i cosiddetti tecnici fra virgolette che si sono impadroniti abusivamente del governo in molti paesi del mondo non sarebbero capaci di ordire una cospirazione neanche sotto la minaccia di un fucile talmente tanto sono incompetenti i governanti e i politici allora chi sono sono i banchieri però se indaghi a fondo mi sembra chiaro che i banchieri sono a loro volta pedine esecutori di un progetto più grande di loro e allora chi sono i veri responsabili quelli che stanno dietro le elite occulte quelli che non si vedono i governanti segreti del mondo quelli che appartengono all'aristocrazia ibridata con gli alieni come dice David Icke io non lo so però io comincio a non credere più a niente mi sembra che tutti siano pedine di una grande chiamiamola operazione psicologica che è basata sullo scatenare paura e rabbia e allora chi sono i responsabili di questa operazione psicologica la mia ipotesi di lavoro provvisoria per quanto possa sembrare stravagante ti assicuro che ci ho riflettuto a lungo è che la cospirazione chiamiamola così e mettiamola pure virgolette non viene da uomini o non viene da gruppi di uomini in quanto tali ma sarebbe più giusto definirle forme pensiero cioè campi di coscienza di cui noi facciamo parte senza neanche saperlo se volessi approfondire questo pensiero adesso probabilmente partirei senza più fermarmi almeno per le prossime due ore e allora ti dico se ne avrò occasione ne parlerò al secondo raduno di Tempo di Cambiare che esiterà fra tre giorni a Roma e comunque è un argomento su cui intendo tornare nella terza stagione del podcast Tempo di Cambiare ora alla luce di tutto questo alla luce del fatto che non si capisce bene chi sta dietro chi tira le file le fila chi è il nemico con chi abbiamo a che fare o con che cosa abbiamo a che fare come dobbiamo agire per migliorare il mondo perché anche questo è uno dei tormentoni è uno delle chimere è il santo graal del podcast Tempo di Cambiare che stiamo ricercando e che stiamo rincorrendo cosa dobbiamo fare questa è la domanda che sorta spontaneamente all'interno della comunità fin dai primissimi episodi del podcast va bene capire va bene domandarci va bene indagare ma cosa vogliamo fare concretamente per migliorare il mondo poi c'è stato il raduno di Abano Terme in cui abbiamo discusso anche di questo e poi non so probabilmente qualcuno avrà potuto pensare che io stesso ho smesso di interessarmi a questa domanda come agire cosa fare concretamente magari qualcuno avrà pensato che io mi sono rilassato per così dire in questo ruolo di narratore intervistatore eccetera eccetera senza più pensare a trasformare le nostre riflessioni in azione ebbene devo dire che no questo non è il caso e questo non è mai successo personalmente ho sempre continuato a pormi la stessa domanda ininterrottamente cosa significa agire cosa significa entrare in azione per contribuire a un mondo migliore e il punto è che agire nel mondo è per definizione una concetto dualistico cioè si sente bisogno di agire per cosa per contrastare l'andazzo voluto dall'elite e nel preciso momento in cui tu pensi così cade in trappola perché a quel punto devi identificare precisamente chi è l'elite chi è il nemico quali sono le sue strategie quali sono le sue tattiche come fare per avere la meglio su di loro e soprattutto cosa sanno loro che tu non sai perché è impossibile sconfiggere un nemico meglio informato di te ebbene ognuna di queste indagini se noi la facciamo si rivela un pozzo senza fondo diventa un puzzle in cui è impossibile rispondere se se noi avessimo di fronte un'elite di governanti e banchieri che sono semplicemente cattivi e dominati dalla malvagità e allora sarebbe quasi facile ci sarebbe una strategia in grado di contrastarli in effetti io ne ho anche pensato una o più di una strategia di quello che potrebbe essere un movimento di rinnovamento sociale e spirituale se ne avrà modo e se ci sarà interesse ne parlerò a Roma ma la domanda è se la premessa iniziale fosse completamente sbagliata se non esistesse un'elite di governanti e banchieri che sono cattivi e sono dominati dalla malvagità e se fosse proprio il tuo agire in un certo modo supponiamo sotto forma di movimento di rinnovamento sociale movimento di rinnovamento spirituale come lo puoi chiamare se fosse proprio questo a scatenare la reazione di un nemico che in realtà non esiste a meno che tu non gli dai potere mi rendo conto che queste riflessioni sono altamente speculative sono quasi voodoo di frontiera però io sento che le mie riflessioni stanno arrivando da qualche parte e diciamo come se sono a forza di picconate come se sono vicino a trovare qualche gemma d'oro da qualche parte se dovunque io mi giro in mio volto trovo finzione e falsità attenzione non trovo nemici malvagi trovo finzione e falsità trovo bufale trovo falsi allarmi trovo scenari orribili sul nostro futuro che non si verificano mai allora contro chi combatto se combatto contro una finzione rischio di trasformarla in realtà e se invece mi accorgo che è una finzione non ho più bisogno di combattere perché sono già libero nei prossimi mesi se lo vorrai continuerò a condividere con te le mie riflessioni su questi argomenti eccoci all'angolo degli ascoltatori che è l'angolo delle domande delle riflessioni dei commenti e dei feedback anzitutto un saluto a Carlo Porta che mi ha inviato una bella registrazione audio fatta da lui Carlo ti ringrazio la tua la tua registrazione meritava pienamente di essere inserita qui in questo angolo se non lo faccio è solo perché in questa puntata desideravo per così dire una maggiore leggerezza e meno atmosfere dark e così mi perdonerai se non inserisco la tua riflessione il tuo approfondimento ma avrebbe meritato è molto ben fatto e te la ringrazio la prima domanda invece è di Antonella e ve la voglio leggere se la riesco a trovare eccola qua si intitola Anima e ovviamente è sulla sull'onda della della dello scorso episodio dove si parlava di Anima con il regista Varo Venturi ciao Italia l'ho ascoltato con molto interesse l'ultimo podcast come tutti gli altri del resto poi mi sono vista sei giorni sulla terra e ho ascoltato con molta attenzione alcune conferenze di Malanga beh che dire la cosa più sconvolgente che mi ha fatto cadere in una sorta di disperazione mancanza di speranza è stato sentire che solo il 20% degli esseri umani avrebbero l'anima sia che io sia uno di questi fortunati che poi magari sono addotti sia che io non lo sia la cosa è comunque triste mi piacerebbe che tutti compresi animali piante e perché no entità aliene finalmente pacificate si potesse andare a vivere in un mondo migliore dove ritroveremmo noi stessi e staremo finalmente bene sarà una visione infantile il desiderio del paradiso insomma quel che è vorrei fosse comunque per tutti o almeno che tutti avessero se non altro la possibilità di accedervi per berito non che ci siano dei predestinati degli eletti alla calvino e tutti gli altri qualsiasi cosa facciano siano comunque dannati e poi che senso avrebbe per questo 80% essere venuti sulla terra e che fine faranno quando moriranno andranno nel nulla eterno vorrei che tu ci raccontassi qualcosa di quello che dicono gli antichi testi buddhisti in proposito e cosa ne pensi tu ti ringrazio infinitamente con un abbraccio sincero Antonella Antonella ricambio i saluti e le bracci grazie per la tua domanda dal punto di vista dell'insegnamento buddista dal punto di vista di quello di cui io sono convinto che in questo campo sono la stessa cosa tutti gli esseri senzienti fra cui gli uomini e tutti gli animali nessun escluso sono dotati di una mente o coscienza che nel nostro insegnamento sono sinonimi e questi tutti gli esseri umani tutti gli animali e tutti gli esseri senzienti sono perfettamente uguali tutti desiderano la felicità e tutti cercano di evitare la sofferenza perfino gli alieni se esistono sono uguali anche loro dotati di una mente anche loro dotati di una coscienza anche loro desiderano la felicità anche loro cercano di evitare la sofferenza quindi su questa uguaglianza fondamentale puoi tranquillizzarti secondo gli insegnamenti buddhisti invece attenzione nessuno ha un'anima perché anima fra virgolette è una astrazione cioè un pensiero formulato dall'intelletto è un po' il nostro modo il modo che i nostri pensieri hanno di glorificare il nostro senso dell'io siccome noi abbiamo l'illusione di essere entità separate allora ci aggrappiamo a questa illusione e raccontiamo a noi stessi che questa illusione esiste si chiama anima è bella è immortale è nobile e così via ma questa è una fabbricazione dell'intelletto è un pensiero cioè ingannevole come tutti gli altri pensieri se togliamo di mezzo questo pensiero il pensiero anima non esiste una cosa una sostanza un quid che noi possiamo indicare toccare con mano e dire questa è l'anima e allora secondo l'insegnamento buddista se non esiste l'anima cosa esiste esiste quello che noi chiamiamo un flusso di coscienza ininterrotto chiamato consapevolezza esperienza mente coscienza conoscenza che è appunto la nostra capacità di conoscere di percepire di fare esperienza questa coscienza o consapevolezza non è mai uguale a se stessa non esistono mai due momenti di percezione o di esperienza uguali fra di loro Antonella quindi quando diciamo coscienza consapevolezza mente che ripeto per noi sono sinonimi quello è solo un nome una parola che usiamo per capirci fra di noi e non corrisponde a una sostanza realmente esistente perché credere a una sostanza realmente esistente secondo noi buddisti è la causa di tutti i nostri problemi e di tutta la nostra infelicità perché ti attacca ti incolla a un'idea di permanenza che invece è illusoria detto questo è questa mente o coscienza o consapevolezza o questo flusso ininterrotto sempre diverso e mai uguale a se stessa che noi dobbiamo proteggere dagli stimoli negativi tornando al discorso e fra l'altro è questo flusso di coscienza che va che continua dopo la morte dell'involucro fisico e quindi tutti continueremo non c'è ombra di dubbio se abbiamo una mente o coscienza dopo la morte del corpo fisico questa mente o coscienza continuerà non esiste che si schiaccia il telecomando e tutto diventa buio nero e non esiste più la percezione dopo il giorno della nostra morte questa sì che è una superstizione se uno dovesse credere questo non può esistere il non conoscere non può esistere il non esperire non può esistere zero percezione non può esistere il nulla perfino gli scienziati non sono ancora mai riusciti a scoprire e identificare il nulla semplicemente perché non esiste quindi detto questo già mi sembra di aver risposto alle tue domande è questa mente o coscienza che noi dobbiamo proteggere dagli stimoli negativi perché questa mente questa coscienza è contiene in sé i semi o meglio causa tutta la nostra felicità e la nostra sofferenza e ripeto va protetta dagli stimoli negativi che siano i nostri stessi pensieri negativi che siano le nostre stesse emozioni perturbatrici o che siano interferenze che provengono dall'esterno come abbiamo parlato la puntata scorsa di arconti alieni e così via e ripeto in questo siamo tutti uguali non credo in questa teoria che alcuni di noi abbiano qualcosa che manca ad altri che è completamente illogica o meglio tutti noi abbiamo una forza interiore una vitalità un'energia vitale la forza della nostra consapevolezza tutti ce l'abbiamo e può essere più o meno addormentata tutti abbiamo bisogno di risvegliarla tutti abbiamo bisogno di coltivarla quindi semmai è una questione di gradi non di avercela o non avercela ok Antonella spero di aver risposto alla tua domanda un'altra domanda e grazie perché era interessante un'altra domanda a meno per me un'altra domanda era di Gabriella vediamo anche questa se la trovo eccola qua ciao Gabriella carissimo Italo anzitutto un grande abbraccio ci siamo conosciuti al ritiro di Scapezzano che è stata per me un'occasione molto bella per avvicinarmi a Scapezzano lo ripeto per chi non lo conoscesse è il luogo nelle Marche vicino a Ancona dove facciamo i ritiri di meditazione periodici da me stesso condotti ci siamo conosciuti al ritiro di Scapezzano che è stata per me un'occasione molto bella per avvicinarmi a una spiritualità ad ampio respiro che mi rende più consapevole di essere parte del tutto detto questo voglio condividere la risonanza che ha generato in me il tema degli alieni affrontato nell'ultimo podcast ti prometto che già quando ero adolescente avevo fondato un gruppo con i miei amici in cui si parlava e si leggeva molto sugli UFO ricordo che allora ero abbonata al giornale dei misteri questo per dirti che per me questo è un tema piuttosto familiare in questi giorni sono andata su YouTube e ho guardato con attenzione un video di due ore del professor Malanga il quale descriveva con dovizia di particolari le esperienze degli addotti cioè di coloro che asseriscono essere stati rapiti dagli alieni ebbene sono rimasta sconvolta perché non so più quale sia la realtà ho avuto la pessima idea di vedere il suo video la sera scorsa e a parte un fortissimo mal di testa sono stata quasi tutta la notte in dormiveglia forse sono troppo impressionabile ma le informazioni che lui ha dato circa questi rapimenti notturni di alieni che passano attraverso i muri e che fanno ogni sorta di esperimento su noi umani è veramente agghiacciante mentre lo ascoltavo dicevo fra me e me allora è una maledizione incarnarsi in forma umana allora il velo di Maya nasconde un grande incubo l'incubo di essere parassitati da vampiri che vengono da altre dimensioni che possono fare di noi qualunque cosa io ormai da tempo credo che siamo incantati da una certa ipnosi di massa che cerca di distoglierci dalla verità ma ho sempre creduto che se raggiungiamo la consapevolezza abbiamo anche la possibilità di risvegliarci e quindi di diventare liberi ma le informazioni che ho appreso da quella prima parte del video anche ancora la seconda parte non sono riuscito a vederla mi fanno capire che se le cose stanno come afferma Malanga potremmo essere parassitate ogni notte non solo dato che una parte di questi alieni chiamati non solo dato che una parte di questi alieni chiamati lumen entrano nel nostro cervello non possiamo neanche essere certi che le nostre intuizioni sia davvero nostre insomma un incubo una lotta impare dalla quale non vedo la possibilità di uscirne intatta i lumen come dice Malanga dicono di essere parte di un tutto aiuto ma anche noi nelle pratiche spirituali cerchiamo di risvegliarci alla consapevolezza che siamo parte di un tutto ho le idee confuse caro Italo non voglio continuare a scrivere perché occuperei troppo del tuo prezioso tempo ma vorrei che tu esprimessi un parere rispetto a questo argomento così agghiacciante almeno per me ti ringrazio non vedo l'ora di abbracciarti Gabriella da Roma ciao ciao Gabriella spero che ci rivedremo presto al al raduno di Roma grazie per la tua condivisione più che domanda anzitutto fammi sottolineare voglio sottolineare una differenza che c'è fra il buddismo visto che è la seconda domanda che riguarda comunque direttamente indirettamente il buddismo e le varie religioni e le varie chiese e così via in riferimento a quanto si diceva nello scorso episodio con Varo Venturi e di quello che tu stessi hai ricordato di fare attenzione ai cosiddetti lumen i cosiddetti esseri di luce i cosiddetti esseri superiori ok fammelo sottolineare nel buddismo non esistono esseri superiori non esistono esseri di luce a cui noi ci apriamo li accogliamo dentro di noi e loro se ne approfittano perché sono malintenzionati il buddha era un essere umano completamente umano che ha realizzato la vera natura e le potenzialità del proprio essere tutti noi possiamo farlo e questa è questa vera natura è dentro me dentro di te dentro ciascuno di noi infatti la chiamiamo natura di buddha ed è in quella che noi prendiamo rifugio cioè il nostro punto di riferimento è quella la parte migliore di noi stessi la nostra natura di buddha non è che noi adoriamo o divenizziamo il buddha fisico in carne ed ossa il buddha in quanto principio della natura di buddha che c'è in ognuno di noi fondamentale e quindi dicevo il buddha stesso proibiva ai suoi discepoli quando era in vita di prendere rifugio negli dei perfino negli dei più alti come brahma il buddha diceva se prendi rifugio nella nella illuminazione se rivolgi la tua mente al realizzare l'illuminazione spirituale non devi prendere rifugio negli dei neanche in brahma perché se esistono per definizione hanno una coscienza o mente o consapevolezza o percezione chiamala come vuoi o esperienza questo e il buddismo sono tutti sinonimi se hanno coscienza per definizione hanno un senso dell'io se hanno un senso dell'io per definizione avranno la tendenza a servire questo senso dell'io cioè a fare i propri interessi e non i tuoi in effetti il buddha diceva che gli dei deva asura eccetera soprattutto questi due dei e semi dei anche se sono divisi in tantissimi tipi e sottotipi anche molto diversi fra di loro fanno tutti parte del samsara proprio perché hanno un senso dell'io che significa che fanno parte del samsara che sono esseri non illuminati proprio come te proprio come me cioè soggetti a emozioni perturbatrici sia pure gli dei molto 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 più sottili rispetto ai nostri hanno forme di orgoglio molto più sfumate hanno anche loro la paura di morire però ecco sono più evoluti di noi ma non sono illuminati fanno parte del samsara sono soggetti al pensiero io e sono soggetti alle emozioni perturbatrici proprio come noi diventano tristi quando si accorgono che stanno per morire sono terrorizzati dalla morte dei loro amici dalla morte degli altri dei e così via ti sto dicendo un po' la mitologia quello che dice il Buddha a proposito di questo argomento che adesso sappiamo che le mitologie non sempre sono mitologie ma contengono veramente pezzi di realtà e quindi i deva e gli asura fanno parte del samsara proprio perché hanno un senso dell'io quindi sarebbe assurdo per chi volesse liberarsi dal samsara cioè raggiungere la piena illuminazione prendere rifugio in qualcuno che fa parte del samsara e questa assurdità perché è proprio un'assurdità la trovo in tantissimi pensatori new age a cominciare da Wilcock David Wilcock che pensano che un giorno gli alieni verranno a salvarci ora io penso che tu sei libero di crederci però dal punto di vista dell'insegnamento di liberazione buddista questo è ridicolo l'altro aspetto della tua domanda Gabriella è ma allora che brutto che brutto mondo è questo in che brutto incubo siamo precipitati che brutta realtà è questa in cui ogni notte vediamo parassitati mi ricollego a quello che dicevo prima e mi riservo anche di approfondire questo concetto raduno di Roma e di nuovo in futuro fermo restando che la minaccia aliena come tutte le cose di questo mondo diventa tanto più vera quanto più tu ci credi fammelo ripetere fermo restando che la minaccia aliena come qualsiasi altra cosa di questo mondo diventa tanto più vera quanto più tu ci credi fermo restando questo la mia teoria provvisoria è che anche la minaccia aliena fa parte di questa cospirazione globale di cui parlavo prima che è volta a scatenare paura e rabbia nell'umanità e farci dimenticare che la nostra mente è il grande creatore di tutta la nostra realtà che siamo noi stessi i creatori della nostra felicità della nostra sofferenza e farci dimenticare che il nostro potere personale la nostra libertà sono effettivamente infiniti proprio qui e ora e quindi la cospirazione nel senso di tenerci indaffarati tenere indaffarate le nostre menti con cose che sono o sciocchezze complete nella maggior parte dei casi o bufale o operazioni psicologiche create per metterci paura e rabbia e che diventano vere solo nel momento in cui noi ci crediamo perché la mente è in grado di creare qualsiasi realtà chi è l'autore di questa cospirazione dicevo poco fa sono quelle che prima ho chiamato forme pensiero non sono persone non sono gruppi di persone sono forme pensiero cioè campi di coscienza di cui noi facciamo parte senza saperlo e nei e nei e nei cui inganni noi crediamo scioccamente quindi la risposta breve la tua domanda è che secondo me gli alieni non parassitano proprio un bel nulla e non ci sono esseri realmente esistenti dalla propria parte chiamati alieni sono una finzione un costrutto falso un pensiero proiettato pensato da un campo di coscienza di cui noi facciamo parte senza saperlo in altre parole sono pensieri inseriti nella nostra mente inseriti nella nostra esperienza sia dall'esterno sia dall'interno però sono pensieri falsi e se noi ci crediamo diventano veri ti sembra troppo fantascientifica questa teoria? studiati un po' di fisica quantistica e vediamo che cosa è più fantascientifico questa è la mia conclusione provvisoria su questi argomenti c'è Luigi ci sono veramente tanti altri che saluto ma ci sono Luigi e altri che hanno fatto domande molto simili alle due precedenti volevo semplicemente salutare Luigi salutare gli altri che mi hanno fatto domande molto simili a questa queste erano domande molto sentite penso che rispondendo a queste due domande ho risposto a probabilmente dozzine e dozzine di domande simili a queste che avevano molti ascoltatori che hanno ascoltato l'episodio precedente quindi volevo semplicemente salutare Luigi e gli altri anche perché Luigi ci conosciamo personalmente e non ci sentivamo da un po' di tempo ringraziare per le domande e appunto confermare che credo di avere già risposto con le mie risposte precedenti ma per oggi diciamo che per oggi diciamo che può andar bene ricordo le prossime occasioni incontro per quelli che hanno piacere di incontrarsi di persona che è sempre per me è una cosa meravigliosa è insostituibile non è la stessa cosa incontrarsi a distanza via internet con un podcast che incontrarsi di persona sono due esperienze completamente diverse appartenenti a due tipi di categorie di esperienze completamente diverse per cui le prossime occasioni di incontro sono il raduno di Roma ormai inutile che lo dico mancheranno appena due o tre giorni e poi c'è io ho già fissato la data personalmente del mio prossimo incontro periodico di meditazione che tengo due volte all'anno una volta in primavera una volta in autunno non è solo un corso di meditazione in realtà è molto di più è un corso in cui approfondiamo gli insegnamenti di liberazione e guardiamo a sentiero spirituale nel suo insieme e non semplicemente la pratica della meditazione comunque ho fissato la prossima data dell'incontro si tiene a scapezzano di senigallia che è vicino a senigallia che a sua volta è vicino a Ancon che a sua volta è il capoluogo delle marche e si tratta dal 21 al 24 marzo del 2012 e quindi non esiste ancora una le iscrizioni non sono ancora aperte però te lo dico nel caso vuoi iniziare a segnarti in agenda queste date 21 24 marzo 2012 e basta questo era il 23 esimo episodio il 24 esimo che sarà anche il primo della terza stagione di Tempo di Cambiare non ha ancora una data certa quindi devi necessariamente come si dice sottoscrivere la mailing list di Tempo di Cambiare basta che vai su www.tempodicambiare.it specialmente nei post all'interno del nei post all'interno del nel allora nei post in cui viene pubblicato il podcast all'interno c'è un form di iscrizione dove lì si inserisci il tuo nome e email io potrò avvisarti di quando esce la prossima puntata altrimenti come faccio ad avvisarti se tu non lasci il tuo nome e email questo è importante adesso poi ci si può anche abbonare direttamente al podcast tramite iTunes questa è un'altra possibilità per quelli di voi che sono tecnologicamente più esperti che usano iTunes se hai iTunes già sai come si fa non c'è bisogno che io te lo spieghi comunque c'è un tutorial sul nostro sito sulle pagine del nostro sito se scarichi di iTunes per favore ricordati di aggiungere un tuo voto o un tuo giudizio su questo podcast si può usare sia il sistema delle stellette sia il sistema di lasciare un commento questo ci aiuta a rendere il podcast più visibile a tutti quelli che ancora non lo conoscono e infine che dire buon 21 dicembre fatidico solstizio d'inverno 2012 buon Natale e felice anno nuovo 2013 questo è tempo di cambiare è il podcast della minoranza indipendente di quelli che vogliono pensare con la propria testa sviluppare il proprio cuore e migliorare il mondo io sono Italo Cillo sei felice ci risentiamo nel 2013 e migliorare il mondo i migliorare il mondo non practical c e hill